Sabato 1 settembre alle ore 16 a Palazzo d'Avalos, Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, prenderà parte alla presentazione del suo ultimo libro intitolato Stil Novo, la rivoluzione della bellezza tra Dante e Twitter, iniziativa organizzata con il supporto di Domenico Molino, consigliere comunale del Partito Democratico, sulle posizioni del sindaco Rottamatore. In un'intervista al Corriere della Sera in edicola questa mattina, Renzi cita anche Vasto, laddove parla della foto che ha intenzione di farsi scattare con alcuni giovani. Sarà il simbolo dell'idea che la coalizione si fa tra persone, non tra vertici di partito. Sarà la mia foto di Vasto, ha concluso Renzi. Lanciando la sua candidatura alle primarie, dunque la sfida all'attuale leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, Renzi parla di una campagna che sarà portata avanti all'insegna del fair play. Non attaccherò mai personalmente il segretario, dice ancora nell'intervista, La mia idea precisa, poi riferendosi al Movimento 5 Stelle, è che alle posizioni dei grillini si risponde con la fatica delle motivazioni, non con la facilità di uno slogan.